Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, sta piovendo su gran parte della Toscana, in particolare in A1 tra Sassomarconi e Firenze Scandicci e tra Chiusa e Ceprano, in A11 tra Firenze e Pistoia e sull'interno tracciato della Firenze e Pisa Livorno. Prodenza inoltre per nebbia, in A1 tra Rioveggio e Aglio. Raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità, in Fipili, rallentamenti per incidente tra la Strassigna e Scandicci nella carreggiata verso Firenze. Regolare il traffico altrove. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze, per lavori alla rete fognaria, segnaliamo la chiusura di via dei Guicciardini, da via dello Sprone a Piazza Pitti e Senso Unico, da via dei Ramagliati a via dei Barbadori. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.